Tempo di shopping, tempo che scorre veloce e così la caccia ai regali diventa sempre più frenetica in centro a Bassano. Ma si tratta di una frenesia consapevole perché residenti e turisti hanno le idee chiare e in città si registra un 60-70% di acquisti col POS. Gli acquisti vengono fatti per la maggior parte nel settore gastronomico che ancora la fa da padrone in questi ultimi tempi. Trend sia locale sia nazionale, seguito da abbigliamento e accessori per la cura della persona che è un altro tema che sta avvenendo una buona crescita. Un altro elemento di forte crescita sia a livello locale che a livello nazionale sono gli acquisti per i nostri amici a quattro zampe. In crescita le comprenne nei negozi di vicinato. I bassanesi e i turisti riscoprono quindi il piacere di fare shopping in centro. A dispetto dell'online. L'online ti permette di avere una comodità che in altri posti non avresti. Un acquisto in centro storico comporta un maggiore indotto. Quindi oltre all'acquisto abbiamo la sosta del parcheggio, quindi un pagamento del parcheggio, un caffè o magari un aperitivo seguito anche da una cena. Quindi sono due modi completamente diversi di spendere il proprio denaro. L'e-commerce sta avendo una flessione del meno 4,6% rispetto al 2021. Quindi sembrerebbe che il riavvicinarsi alle attività di vicinato come il nostro stia avendo un trend in crescita.